Buona domenica a tutti E do subito l'argomento Don Pasquale, Azione Cattolica cosa ti dice? Azione Cattolica mi dice un grande movimento che è sempre per la vita, come tutti i movimenti che dovrebbero essere nella Chiesa, è un movimento che ci permette di fiorire nella nostra vocazione, nel posto che il Signore ci ha dato nel mondo, è una grande famiglia a cui noi apparteniamo e ci sentiamo orgogliosi di appartenere specialmente in quest'anno, in cui ricorre il centesimo anniversario della presenza della grande famiglia di azione cattolica nella nostra diocese, quindi tesserarsi quest'anno e entrare a far parte di questa grande famiglia o rinnovare il proprio sì all'interno di questa grande famiglia ha un grande significato per noi, non solo un significato di appartenenza e quindi di condivisione di intenti, ma anche di Chiesa, perché l'azione cattolica è una grande esperienza ecclesiale. Tu hai usato un termine, tesserarsi, tessera, oggi invece Valentina si dice adesione, che differenza c'è e tu perché hai scelto l'azione cattolica? Allora, la tessera è semplicemente un pezzo di carta direi, invece l'adesione è una scelta, è dire un sì. Noi festeggiamo la festa dell'adesione il giorno dell'Immacolata, come Maria ha detto sì alla sua chiamata, alla sua vocazione, così noi diciamo sì all'azione cattolica e nel dire sì all'azione cattolica diciamo sì alla Chiesa, perché già come diceva Don Pasquale prima, l'azione cattolica è attenta al cammino della Chiesa e vive nella Chiesa, nelle comunità parrocchiali, nelle comunità diocesane, sentendosi parte di questa grande famiglia che poi va oltre i confini del proprio territorio, si allarga fino a abbracciare tutta l'Italia e il mondo intero. E questo è il motivo per cui io ho detto sì anche quest'anno, sono nuova in azione cattolica, posso dire sono quattro anni che sono tesserata, non ho questa lunga esperienza a giubilare come vive il nostro territorio diocesano, però ecco un ricordo bello che porto dentro è proprio l'accoglienza, la prima accoglienza che ho ricevuto da parte della grande famiglia di azione cattolica diocesana, una famiglia che continua ancora a donarmi tanto, tante ricchezze, tanti doni che voglio condividere con quanti incontro sul mio cammino, il motivo per cui ho detto sì e continuo a dire sì è proprio questo, per testimoniare ancora la bellezza degli incontri e del primo incontro che ho vissuto con l'azione cattolica. Ecco qua, questa è bella questa testimonianza, Valentina non ha cento anni ovviamente ma soltanto quattro in azione cattolica. Don Pasquale ti faccio una domanda che è un po' una provocazione, il fatto di aggregarsi in gruppi, in movimenti, con questa aggregazione non si corre il rischio di isolare tutti gli altri che non ne fanno parte all'interno della Chiesa? La bellezza dei carismi della Chiesa sta proprio nella loro inclusività. Guai quando si forma un gruppo ecclesiale escludendo gli altri, perché ci si può anche riunire insieme, si può stare insieme perché ci sono affinità, perché ci sono interessi in comune, perché si hanno degli scopi condivisi, però l'importante è che il cuore sia sempre aperto. Anche Papa Francesco insieme al nostro Vescovo ci ricorda che la caratteristica fondamentale della nostra carta d'identità cristiana è proprio la speranza. La speranza, ci dice il Vescovo, l'ha scritto nel messaggio proprio in occasione della festa dell'adesione lo scorso 8 dicembre, è proprio questo. La speranza è la virtù di un cuore aperto, di un cuore che non si accontenta di restare alla superficie, né si accontenta forse di appollaiarsi troppo sul presente, ma è sempre aperta al futuro, verso la costruzione di un mondo nuovo, dove la giustizia e dove la solidarietà fraterna hanno una casa, hanno diritto di cittadinanza. Quindi è bello aggregarsi, è giusto stare insieme, condividere le proprie aspettative, le proprie speranze, le proprie risorse, i propri talenti, ma questo sempre con le porte aperte. Questo è anche una bella metafora che utilizzava Don Tonino Bello parlando delle porte delle nostre parrocchie, che devono essere rivolte all'esterno quando si aprono e mai all'interno. Era un suo grande sogno che penso ultimamente stia diventando ancora di più realtà per noi. Di sognare ne abbiamo tutti bisogno. Proprio come dicevate voi, l'8 dicembre padre Franco Moscone ha celebrato la Santa Messa in occasione della solennità dell'Immacolata Concezione e festa dell'adesione. Ha dedicato a tutti voi, di azione cattolica, delle parole molto forti e un messaggio da portare avanti, ponendo l'attenzione sulla tessera, questa famosa tessera, usando l'immagine della coccarda. della speranza e della fiducia nel futuro. Voi giovani, Valentina, avete fiducia nel futuro a questo proposito? Agganciati anche tu alle parole di padre Franco. Sì, noi giovani abbiamo tanta fiducia nel futuro. Come diceva Pier Giorgio Frassati, un grande santo di azione cattolica, dobbiamo vivere e non vivacchiare. Quindi sicuramente dobbiamo vivere il presente e quindi non lasciarsi scoraggiare da quello che è questo tempo burrascoso, incerto, ricco di domande a cui spesso non sappiamo dare risposte. Ma non per questo, appunto, dobbiamo lasciarci prendere dallo scoraggiamento e aspettare che tutto torni come prima, ma dobbiamo guardare al futuro, così come ci ha invitato a fare padre Franco, con occhi pieni di speranza e di fiducia. Due virtù che ci accompagnano anche nel testimoniare e contagiare persone e ambienti che incontriamo e frequentiamo. Ed è questo un po' quello che ci proponiamo e ci auguriamo di fare noi giovani di AC, noi come KIP, parlo a nome mio, ma anche di quanti mi affiancano in questo percorso. Vogliamo, insomma, contagiare il mondo con la bellezza della C, quella bellezza che noi abbiamo incontrato e che viviamo ogni giorno. Ecco, e combattere proprio sul ring, come diceva San Paolo e come ricordava padre Franco, mettendo a tappeto tutti i mali che in questo tempo soprattutto si stanno facendo protagonisti. Allora, Don Pasquale, cambiamo per questi ultimi minuti che ci restano, e Valentina sicuramente ne sarà felice e saprà anche di questa notizia, l'8 dicembre e fino all'8 dicembre prossimo del 2021 noi ricorderemo San Giuseppe nelle nostre preghiere, nelle nostre opere buone e come sollievo dalle gravi difficoltà e tribolazioni che in questo momento stiamo vivendo, ma penso anche nel prossimo futuro, insomma. Non è una pandemia semplice da abbattere, quindi dobbiamo mettercela tutta. Sei contento di San Giuseppe? Sono molto contento di San Giuseppe, anche perché è una figura da riscoprire sempre. Papa Francesco ci sta indicando un modello da seguire, anche perché lui stesso ne è molto devoto. Si diceva, lui stesso racconta che negli anni del suo episcopato a Buenos Aires viveva nella spiritualità di San Giuseppe dormiente, quindi di questa presenza costante, fisica, ma silenziosa, ma discreta. E queste sono anche le caratteristiche che vengono fuori dal documento che ci ha consegnato proprio alcuni giorni fa, l'8 dicembre. Solennità dell'Immacolata, il Papa ci ha indicato San Giuseppe come modello di riferimento e santo a cui rivolgere la propria preghiera in questo anno particolare che segna il 150esimo anniversario della proclamazione di San Giuseppe appunto a patrono della Chiesa Universale da parte di Pio IX. Quindi il Papa ci dà sette caratteristiche di San Giuseppe su cui riflettere. Padre amato, padre nella tenerezza, padre nell'obbedienza, nell'accoglienza, nel coraggio creativo, lavoratore soprattutto, e che in questo tempo segnato dalla mancanza di lavoro a causa di questa pandemia il Papa invita tutte le categorie di lavoratore a rivolgere il proprio sguardo di speranza a San Giuseppe che anche ha vissuto le proprie difficoltà, i propri rammarichi, ha vissuto nell'ombra. Ecco, Papa Francesco richiama in questa lettera anche quello che scriveva Paolo VI rispetto al padre di Gesù dicendo di lui che era ombra, ombra della paternità di Dio sulla figura e sulla persona e missione di Gesù. San Giuseppe un po' è questo intercessore, è questa figura potente di padre in un tempo segnato dalla mancanza del padre, l'adulto che ci manca. Riprendendo un po' un bellissimo testo di Armando Matteo, ci manca un adulto, ci manca un padre e di questi padri come San Giuseppe noi abbiamo sempre bisogno. E questo è l'anno per approfittare e riscoprire la paternità di San Giuseppe su noi e su tutta la Chiesa. E saremo in ottima e sicura compagnia. Valentina, tu ce l'hai San Giuseppe nel presepe? Sì, certo. Ovvio, ovvio, non può mancare. Il presepe sarebbe senza San Giuseppe. Assolutamente. Allora, siamo felici di avervi avuti qui, io lo dico a nome di tutti quelli che ci seguono. Don Pasquale è ormai un volto di ricomincio da te noto. Grazie a Valentina, sperando di ritrovarci presto. Allora, io continuo, intanto auguri all'azione cattolica per i suoi cento anni nella diocese di Manfredonia V.S. San Giovanni Rotondo. continuo con un altro movimento, quello dei focolari, che come diceva Don Pasquale, telecamere spente, non è dei focolai, pericoloso in questo momento, ma dei focolarini. Grazie e buona domenica a voi. Buona domenica. Ciao, buona domenica. Buona domenica.